Il Santo, la Cappella degli Scrovegni, ecco quali sono le maggiori attrazioni per chi visita Padova, ma secondo alcuni dati della Federazione Pubblici Esercizi a Padova-Lappe, sarebbe il cibo la più grande attrattiva per chi viene da fuori. Cibo buono, della tradizione, e se la qualità offerta dai ristoranti è alta, è più probabile che un turista torni. Ecco che chi viene dalla Germania apprezza per esempio la pasta e fagioli, richiestissima, anche la gallina padovana, molto apprezzata dagli americani e dagli orientali, che chiedono anche il prosciutto di Montagnana. I turisti dai paesi dell'Este, quando si siedono a tavola nella stagione fredda, chiedono la pasta con la zucca. Tortelli di zucca, poi dei risotti di zucca e zenzolo, di zucca e cartofi, zucca e notte moscata, sono tutte varie verità che si possono dare e gustare. Anche gli abbinamenti dei vini, che parliamo adesso nel caso mio e nel Padovano, e nel Padovano abbiamo un bel bacino per quanto riguarda i vini. Alle terme, all'hotel Abano Ritz, gli stati generali della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Si è parlato di turismo, di qualità enogastronomica e di offerta di intrattenimento, tutti valori che saranno importantissimi in occasione dell'Expo di Milano. Turismo che porta anche occupazione, 400 le assunzioni previste a Padova nel primo trimestre di quest'anno. Ma è difficile trovare figure competenti nel campo dell'accoglienza. La cucina è il secondo motivo per il quale il turista terniera sceglie l'Italia come destinazione delle proprie vacanze ed è il primo motivo per il quale vi ritorna. Turismo fondamentale per l'economia del territorio, l'aumento del numero di visitatori in tutta la regione, un segnale positivo anticrisi.